Risentono della crisi i risultati della ricerca presentata a Rasta the World. L'appettibilità rispetto a un'azienda è una specie di proiezione. Che cosa mi piacerebbe trovare in un'azienda? Il che cosa piacerebbe trovare nell'azienda sia quest'anno sia nella ricerca dell'anno scorso non sono molto discostati come risultati e sono dei risultati che risentono moltissimo del momento di crisi. Tanto è vero che al primo posto ci vanno le garanzie del posto di lavoro, la monetizzazione e sono molto più bassi gli aspetti qualitativi, l'autorealizzazione dell'individuo.